Ciao, dolcissimi, dolcissimi! Come promesso, vi ho promesso di farvi vedere il mio Google tablet in funzione. Ok, Google, ti voglio bene. E tu sei speciale. Ok, Google, mi canti una canzone? Ok, Google, mi canti una canzone? Una canzone in scala ora ti do, la canto e mi sento un re, ma per l'emozione io non mi ricordo il testo come fa, spero di non essere il sol. Allora unisci e ti e canta la, questa canzone con me sì, se lo fai un applauso io ti do. Bravissimo! Ok, Google? Arrivederci! Passa una buona giornata, Valentina, mi dispiace, si è verificato un errore, ma puoi riprovare più tardi. Ok, questo è il tablet in funzione. Quando farò altri video, vi farò vedere altre funzioni che ha il mio carissimo amico Google. Vi piace? Lasciate il commento qui sotto al video. Ciao, baci baci!